Torna la rassegna teatrale strade giunta alla sedicesima edizione, primo appuntamento il prossimo 21 gennaio. Cinque appuntamenti domenicali che dureranno sino al 17 marzo, sempre alle 18, nello spazio Nobe per la Pace a San Demetrio. Spettacoli che non hanno un filo conduttore specifico, ma selezionati sia per la qualità artistica che per permettere agli spettatori di avere uno sguardo sulle diverse forme di teatro. Sarà una rassegna dedicata alle varie forme del teatro, perché già da qualche anno stiamo lavorando sul fatto di poter presentare spettacoli che riguardano il teatro e le varie forme che il teatro può assumere. Quest'anno avremo una serie di spettacoli anche che coinvolgeranno parte del pubblico proprio per creare un coinvolgimento per gli spettatori e per renderli partecipi anche a quelle che sono i mestieri del teatro, cioè come la drammaturgia a volte può essere modificata in quell'istante in cui sta avvenendo lo spettacolo, ci sarà un drammaturgo in scena, ci sono varie forme. Abbiamo collaborazioni con il Teatro Stabile di Torino, con Tedacà, avremo uno spettacolo che riguarda il rapporto tra un magistrato e il condannato durato 34 anni che poi è stato presentato dal magistrato stesso in un volume e da questo volume il Teatro Stabile di Torino appunto ha predisposto, ha allestito uno spettacolo. Avremo degli spettacoli dall'Emilia Romagna, da Milano, perché noi siamo in convenzione con la scuola Paolo Grassi di Milano che ci propone le selezioni dei migliori spettacoli fatti sulla piazza di Milano da giovani formati nella quella che è la formazione teatrale. Gli spettacoli sono il 21 gennaio, Giganti e noi, spettacolo ispirato al classico di Pirandello e 4 febbraio spazio a fine pene a ora dal testo del magistrato Elvio Fassone. Il 18 febbraio si prosegue con Dieci modi di morire felici, spettacolo gioco in cui gli spettatori hanno la possibilità di sperimentare una nuova vita con un solo obiettivo, morire felici. Il 3 marzo è la volta di Felicia, ispirato al libro di Biggio e Berengo, una storia di animali del bosco e di una strega, un problema che viene affrontato con uno scontro ma che si risolve con un incontro. Il 17 marzo è lo spettacolo conclusivo a Fanisi, una performance che rovesce il rapporto tra spettatore e spettacolo. Tra realtà e sguardo che la osserva, lo spettatore non è passivo ma è un creatore attivo dell'opera che è di fronte.